Ciao ragazzi e bentornati nel canale del Coach quindi sia come vi so bene dal titolo oggi parleremo di plank probabilmente oggi ti ho preparato due varianti del plank che secondo me non hai mai inserito nella tua programmazione o nei tuoi allenamenti ma prima di proseguire una piccola info per te qualche secondo e ci vediamo tra pochino, tra pochino di qua, di qua, di qua dicevamo quindi del plank ragazzi, sai perché è uno degli esercizi più utilizzati al mondo? beh in realtà è molto semplice perché è molto efficace perché lo puoi praticare ovunque ed è una tipologia di esercizio che puoi fare senza attrezzi cosa molto importante, sei inserito in una buona programmazione, quindi in un buon allenamento può darti veramente molti benefici e tanti risultati parliamo in questo caso degli addominali, insomma del core quindi tu dai un'occhiata a questi due esercizi che il Coach ti ha preparato e subito dopo se non vai di fretta ti spiegherò come non devi fare per non sbagliare ok? A tra pochino, ciao 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 come dico sempre ragazzi, il plank è fondamentale non perdere l'utilizzo della schiena c'è questo movimento che si chiama retro e anteroversione nello specifico ti ho creato un video che ti lascio il link qua sotto dove ti parlo proprio dell'antero e retroversione per andare a lavorare in tutta sicurezza durante tutti gli esercizi che vai a svolgere ok? Quindi fondamentale mantenere l'addome chiuso se questo esercizio pensi di utilizzarlo nei tuoi allenamenti perché non me lo scrivi nei commenti com'è andata e magari mi lasci anche un bel pollice in su e proprio se vuoi esagerare ti iscrivi al canale ok? Io ti ringrazio di essere passato ancora una volta sul mio canale se vuoi conoscere meglio il Coach e non vuoi chiudere c'è un altro minuto per conoscerci un po' meglio e tu allenati bene, ciao! Grazie per essere qui ragazzi, queste sono delle piccole info per conoscere meglio il Coach questo è il mio sito dove all'interno di questo sito troverai un blog troverai ricette, troverai video, troverai schede allenamento, troverai tutorial tutto questo è completamente gratuito troverai all'interno nutritionista, terapista, farmacista, il Coach anche questo tutto completamente gratuito prenotare oppure abbonarti, tutto questo completamente gratuito ci sono lezioni base così come pacchetti un po' avanzati oppure tutto questo lo puoi fare con la mia app ancora meglio, tutto comodamente da un'app quindi da qui non ti potrà sfuggire mai nulla e se proprio o ti vuoi aggiungere, se sei un telegrammaro questo è il mio canale Telegram ti ringrazio di essere passato da qui e mi raccomando continuate ad allenarti e mi raccomando continuate ad allenarti